Se vogliono presentare la mozione di sfiducia lo dicano pubblicamente in consiglio comunale invece di fare girare questa voce in paese. Non usa mezzi termini il sindaco di Termevigliatore Domenico Munafo che anche nell'ultima seduta del consiglio comunale ha fatto un piccolo accenno sul ruolo che potrebbero assumere in futuro gli otto consiglieri che fanno gruppo da qualche tempo a questa parte. Si tratta di Daniele Biondo, Maria Rita Calabro, Francesco Canduci, Emanuela Ferrara, Domenico Feminò, Fabio Valenti, Giovanni Zanghi e Stella Giunta. Sono necessarie infatti otto firme per avviare l'iter della sfiducia. Munafo ha fatto la disamina della situazione evidenziando come siano cambiate le cose dal momento della presentazione della lista e dalla strepitosa vittoria alle ultime consultazioni amministrative, all'insediamento e all'avviamento del consiglio comunale. Prima non avevamo nessuna forza politica a sostegno del nostro schieramento, ora in consiglio è accaduto di tutto, una situazione imprevedibile, non me lo sarei mai aspettato. Munafo ha confermato poi di essere sempre convinto di voler costituire una giunta di salute pubblica. Gli eventi che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo mi hanno fatto capire che è necessario governare con l'aiuto di tutti. Ci sono le criticità finanziarie, i postumi dell'ultima alluvione, l'emergenza del covid che sta prostrando ulteriormente il comparto economico. Il paese deve essere governato e non è la politica che deve comandare, invece possiamo aprirci a forze esterne come il mondo dell'associazionismo. Nessun diktat dunque, ma perché non dare un seguito alla richiesta di costituire una giunta politica, come hanno auspicato gli otto consiglieri, assecondando chi è stato premiato degli elettori. Noi ci abbiamo provato nel 2019 e sappiamo come è andata a finire. Quell'esperienza è fallita in consiglio comunale quando furono bocciate alcune proposte presentate dall'esecutivo.